la punta ramiera è una classica meta dello sci alpinismo invernale ma rappresenta comunque anche una bella gita del periodo estivo la gita alla partenza dal ponte di turas che si raggiunge attraverso una strada bianca da south di cesana attraverso l'abitato di ruia da qui parte una strada bianca che percorre tutta la valle di turas al fondo della quale troverete il bivacco torgnoa nel tratto finale della valle nella conca proprio al di sotto delle casermette è facile individuare il bivacco torgnoa dove abbiamo pernottato il bivacco è dotato di sei posti letto con materassi e coperte e in vicinanza sono presenti ruscelli dove potete attingere l'acqua i colori della sera cambiano l'aspetto della montagna ci godiamo il silenzio interrotto solo dal fruscio del vento e dallo scorrere delle acque al risveglio mattutino troviamo il cielo terzo ideale per il la nostra salita che ci porterà dai 2.550 metri del bivacco ai 3.300 della punta ramiera dopo un primo tratto ripido il pianoro si apre e appare sullo sfondo il corramier che sarà il nostro riferimento per la salita alla punta lungo l'ampio pendio erboso il sentiero si perde e occorre fare riferimento alle tracce gialle che ritroverete in prossimità della pietraia di salita al corramier raggiunto il corramier si apre la vista sulla valle argentera che rappresenta un'altra via di accesso alla punta ramiera gli ultimi 300 metri che separano il colle dalla punta sono su pietraia ma il sentiero è ben tracciato e non presenta punti esposti raggiunta la punta possiamo godere di un panorama a 360 gradi su tutte le cime circostanti iniziamo iniziamo il nostro percorso di discesa che ci riporterà sul sentiero dell'andata al bivacco raggiunto il bivacco una breve pausa per un caffè un ultimo sguardo alla punta ramiera raggiunta questa mattina e poi riprendiamo il sentiero che in otto chilometri all'interno della val turass ci riporterà al punto di partenza il percorso di questo trekking è lungo 22 chilometri per un dislivello complessivo di 1414 metri 8 sono i chilometri necessari per raggiungere il bivacco raggiunto il bivacco